Ben tornati nella pausa caffè del capoluogo. Sta per iniziare la 724esima perdonanza celestiniana che quest'anno vedrà in cartellone una bellissima pièce teatrale che riporta la favola della Dama della Bolla. Questa mattina ne parliamo con Laura Tinari, ideatrice di questo brand insieme a Francesca Ciccone. Buongiorno Laura. Buongiorno Roberta. Raccontaci allora come nasce la Dama della Bolla. La Dama della Bolla è il soggetto ispiratore di questo brand di cui parlavi tu, Le Dame, ritratti che raccontano storie, ideato da me e da Francesca Ciccone due anni fa nel 2016 per raccontare il territorio aquilano attraverso il disegno. Infatti abbiamo chiesto ad un artista leccese di rappresentare attraverso delle figure femminili quello che è un po' lo spaccato di tre ambiti della nostra società, economia, cultura. La Dama della Bolla rappresenta infatti l'aspetto della cultura, poi ci sono le raccoglitrici di zafferano per quanto riguarda la terra e la maestra di tombolo per l'artigianato. Ma è la figura della Dama quella che abbiamo approfondito un po' di più parlando di lei, anzi raccontando di lei all'interno di una favola scritta da noi. Una favola che poi nel corso degli anni è diventata prima uno spettacolo di danza classica ballato da piccole damine sulle punte e quest'anno una pièce teatrale che sarà realizzata in collaborazione con la scuola di teatro drama di Rosanna Lancione e andrà in scena anche questa per la prima volta proprio durante questa perdonanza. Francesca Ciccone dietro le quinte ci raccontava della necessità di far interpretare le dame aquilane da una persona che fosse esterna almeno al comune sentire post-sisma delle aquilane stesse. Cioè un'artista che raccontasse nelle sue immagini in modo più imparziale, in modo più distaccato e distante le nostre dame. Esatto, la scelta è stata fortemente evoluta nel senso che Valentina D'Andrea che è l'illustratrice che ha realizzato prima i tre soggetti principali e poi tutte le illustrazioni della favola non è mai stata all'aquila e si è fatta un'idea della nostra realtà attraverso i nostri racconti. Le abbiamo raccontato i colori, i prodotti, i profumi, i rumori, le figure tipiche di questa terra e lei sul base delle nostre parole poi ha disegnato questi soggetti. Apriamo però una piccola parentesi sul brand delle dame che voi avete declinato in tantissimi prodotti gadget, magliette, gioielli. Sì, questi tre soggetti sono tre acquerelli che poi noi abbiamo riprodotto su tutta una serie di supporti. La stoffa, abbiamo realizzato delle magliette dal taglio molto femminile con la spalla un po' scesa e sempre sulla stoffa i cuscini, le borse, poi c'è la carta con una serie di quaderni, di quadri, fotoquadri e infine la ceramica con delle tazze, quindi una serie di gadget un po' per tutti. E poi, sempre per questo approfondimento sulla figura della dama, abbiamo realizzato anche un gioiello che abbiamo presentato nella perdonanza di due anni fa, proprio quella del 2016, quella un po' sfortunata in cui questo gioiello è fatto con degli svaroschi rossi, con l'agata bianca, con delle perline, quindi tutte pietre e con il corallo, quindi una serie di pietre più o meno preziose, ma sono dei gioielli unici perché è un'edizione limitata presentata sempre sotto un po' l'ala del comitato per perdonanza, così anche come è stato fatto per la favola e per tutto il resto. Se i nostri lettori e ascoltatori volessero acquistare questi prodotti, dove potrebbero trovarli? Inizialmente avevamo realizzato per due perdonanze di seguito un nostro showroom, proprio in centro, proprio per la voglia di parlare il più possibile sia gli aquilani che i turisti, perché comunque è un brand per tutti. Quest'anno invece abbiamo fatto una scelta un pochino differente e i prodotti sono in esposizione e in vendita presso la Luna Store in Corso Federico II. Benissimo, invece la pièce quando andrà in scena? La pièce andrà in scena domenica sera in due spettacoli, uno alle 21 e uno alle 22 e 30 all'emiciclo, nel colonnato. Abbiamo deciso di utilizzare questa nuova area ritrovata e restituita alla città. Ieri è accantevole oltretutto. Assolutamente sì e poi in serata, quindi con un'atmosfera anche più intima se vogliamo. Ieri con Francesca abbiamo assistito alle prove ed sarà uno spettacolo che promette veramente, è molto simpatico anche perché Rosanna Lancione che ne sta curando anche la regia è stata veramente brava. Quindi è uno spettacolo per tutti, se fate uno spettacolo anche alle 10 e 30, non soltanto per bambini o per ragazze? Assolutamente sì. La favola ovviamente nasce e ha come pubblico i bambini e le bambine, ma ovviamente è uno spettacolo per tutti, anche per gli adulti. Insomma, creative più del solito se fosse possibile, Laura Tinari e Francesca Ciccone vi aspettano domenica sera all'emiciclo per i due spettacoli delle 21 e delle 22 e 30 con la Dama della Bolla. Grazie mille a Laura Tinari e grazie mille a Francesca Ciccone. In bocca al lupo per i vostri lavori. Viva il lupo e grazie al capoluogo. Grazie mille a tutti.